La luce, la luce Discorso, 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 discorso Mena aiutalo, Mena Mena suggerisce Che suggeritore vai Brava Mena Bravo Dopo 40 anni che si dice Va bene, grazie a tutti Grazie a tutti per la sorpresa Una bellissima serata Con le telecamere di Weekend Grazie a voi che hai organizzato tutto Oh Mena, vai Mena vicino al tuo marito Dai, Mena E' il tuo momento, Mena, vai Mena è stasera con Mena 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 Ok Ok Vai dono, vai donio Vai donio Vai donio Guardate qui Tutto il popolo ti fissi Sì ma noi vogliamo invasciare con l'anima gemella Dai Mena 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 andando questo a voi e questo a me tu riprendi Luigi come no come no bimbi poi mi ha festeggiato ha servito la champagne tra poco ci sono andati e siamo felici e contenti champagne per tutti per tutto il popolo e per tutta la gente che ci va male vai giù e tiri 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 viva 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 grazie grazie andò ok bene ragazzi grazie a tutti 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 grazie a tutti